Quando U, al termine del suo lungo viaggio, arrivò proprio al centro del suo cuore, dapprima si sentì a disagio. Non era abituata a stare lì, gli avevano insegnato che non bisogna avere a cuore se stessi, ma solo le altre lettere. Tuttavia U, non sapendo più dove altro andare, si fermò. Piano piano cominciò a sentirsi a casa, imparò a volersi bene, a conoscersi, a credere in se stessa. Poi, spontaneamente, iniziò a creare. Idee, storie, oggetti le donavano una grande gioia. Le altre lettere allora cominciavano a seguire il suo esempio. Impararono ad amare se stesse, a creare e a gioirne. Fu così che U, dopo aver cercato il lungo e largo, scoprì proprio nel suo cuore il segreto più importante.